Perfetto, possiamo andare con Rimetti in Scena Il primo del mondo della suora Sister Acta mi piace tantissimo come nome Credo che faccia riferimento al film Una svitata in abito da suora Azzeccato Ma che cazzo Ok, sasso nel pozzo Allora Qui abbiamo Un belire Così Questa cosa muove? Cosa fa? Oh Quindi Buono Aspetta un attimo Molto Molto buono Perché mi permette di fare così E quindi di fare così Quindi di fare così E devi prendermi questo Ottimo Così Poi che ci faccio con questi? È momentaneamente un altro discorso Però Sai Posso dire Io Ehm Ehm Ognidale Li metto di qua Stai Stai Tu è qui Mettiti qua Così In realtà Ok Qui muoio No Invece Ottimo Questo Me lo riprendo Nessuno mette Felix in un angolo Bene Buono per Felix Devo fare qualcosa di complicato Quello che mi viene in mente È molto complicato Vediamo se riesco Ci riesco Bello Aspetta Così Non so meno di essere Questa sia la tattica giusta Però A occhio direi di no Meno che non l'abbia visto male E ho visto male Indubbiamente Ah Eh Devo spostare di uno più avanti Era questo Devo spostare avanti di uno Ehm Però Ok Giustamente Anche Ok Ora Ecco la che l'ho preso Io lo prendo Carino Ed è andata Ed è andata no Guarda Evita di farmi lo stesso scherzo di prima Perché Impazzisco Quindi qua È andata Ottimo Il primo è fatto Guarda che lo finisco in live Può essere Ah, poi c'è tutto per le rotazioni Vabbè, brutta croce Qui fa lo spirone Allora, l'altra è proprio il caricamento per dire in live che questo bene di non ci sono Perché sono un compleanno Quindi è molto probabile che lei la faccia Domenica Non domani Domenica Domenica Devo impilarli? Ah no, devo fare un crocifisso No, questo lo dovrei mai fare Ma sto obiettivo di bello Adesso sia impilare questo è bello, vabbè Sì, ma si lo troverò qua Ah, giusto Non credo di dover fare quello che sto per fare Ok Ok E va così Allora, c'era il modo per andare lì Ok Ok, va No, aspetta, adesso sono ritardato Allora Tu devi andare qui E poi devo andare di là Devo prendere quella roba Uno di quelli e metto il blu qui Ci sto Ok Ok Se lo mettessi qui Ok E mo Ora devo rialzare questo Perché? Vabbè che non mi è chiaro la cazzo fa Perché Credo alzi questa Hmm, interessante Ok Ok Era di qua Era di qua No Ah Cazzo dovevo mai fare ora Questo Ah Devo portarlo di qua Ah Devo portarlo di qua Allora Aspetta Ho sbagliato Morirò Allora Allora Fammi fare una cosa Prima di io Ok Vediamo Aveva detto Lì Ok Allora Devo portarci il barile Beh Niente di più complicato Eh Non Non Devo dirlo Non Devo dirlo Allora Aspetta Un'idea La mia idea Non comprende Morire in questo modo La mia ragazza La mia ragazza è questo Ok Così da potermi permettere di fare questo Eh Vai Sistemalo Ed è andata Il peggior crocifisso della storia dell'uovo Mentre è carica E' da Ma È E' da Ma E' da E' da E' da Cazzo, ma no, ho disintegato i pantaloni con l'elastico bagnato, se no, una malattia terminale rarissima. Ho un botto di messaggi vocali. No, ascoltare. Ok, devo portare il mangime alla casa. E' un puttanaio, perché... Ma di me sta qua e non so nemmeno come arrivarci, ma intanto andiamo dove posso andare, ovvero qui. Ok... 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 Ah, che cazzo l'ha visto quello? Ok... Un quantitativo di messaggi vocali terrificante, stanno aumentando a dismisura. Torna così. E credo di doverlo mettere nel carro, esatto. Poi una volta messo nel carro, facciamo questo. Mettiamoci qui. Andiamo così. E premiamo anche questo. Ok... La prossima cosa è prendere quello, bello, mi piace... Mi piace la fiducia. Ok... 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 Ora devo alzarla di nuovo... Ok... E' rialziamola... io sono riuscito a beccare l'unica cosa io non dico che non ci sto più capendo un cazzo ammetto che se fossi senza aiuti non sai mai andato avanti qua sei meglio di dove lo mettere c'è anche questo da prendere va bene ok mio vieni qua dove cazzo andavi? di qua ok bellissimo no non gli è piaciuto ok no vieni qua papà io non so come vai qui bello aspetta che l'idea c'è l'ora invece l'idea c'è l'ora ed è sviluppata tanto quanto il mio cromosoma in più fa una gara però sta dicendo il cromosoma ma è per poco ok andiamo testa a testa quindi sta cazzo di puttanata non vuoi essere così figlio di titano andata signale tutto suo voglio ballare voglio vincere no voglio vivere voglio vincere molto ok ecco Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno... e la razzini cielo e la razzini cielo a rotazioni cioè volevo si è scollegato pure un joy con la sola penso che live chiudevo qui per conto mio perché non voglio finire non riesco in live ma devo gestire un paio di cose voglio poter fare dei tagli però sì vi ho fatto conoscere un pochino di fenix terriba merita davvero se non è non ho capito però ma devo portarla lì iniziamo col prenderla poi il resto viene dopo ora la prendiamo e l'appoggiamo qui poi è incredibile come se mi fossi fermato un quadrato più avanti ce l'avevi fatta io ho solo questo ok se lo metto qui buono buono no pessima da essi avessi esatto ti chiamano anche se lo qua ok se possibile fino a qui Ok, era davanti a me no, ok, poi il piano era piazzarlo qua, ok, prendermi questo, piazzare questa qui, ah beh giustamente ripetere il ciclo, no, semplicemente riprendermelo e basta, è un semplice riprendermelo e basta, va bene, potevo arrivarci ok, questo è semplicemente per non spostare in, ok, stai dando aria fedda e che è per me meraviglioso ma ha risultato un po' male, ma con i lattici magnati questi, un minuto, va scendendo qui, vai, non è vero, per una rotazione, cazzo, per una, fa un culo, per una, porca puttana, per una fa male, e una sola fa male, pura che doviene fare un cazzo di essere un completista, ma cazzo, è la sua, non mi piacciono le respi, spiegare, ah è l'ultimo, ok, c'è, si ovvio è l'ultimo, mi sono perso l'obiettivo, no, è l'obiettivo è per me quello, ok, 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 avrebbe ovvio, non ce la posso fare, si, si ma gli giochi devo andare allora io lo faccio così e poi prendo questo pam scritta poi lo mettiamo qui piacevolissimo poi portiamo questo lì in che modo ci sto ragionando mi ricordo ma dove cazzo era lì ok poi poi devo ritornare fino a lì a riprendermelo come cazzo ci posso passare vabbè che non sembra una persona così complicata però ok no non lo era assolutamente la pista è tua addirittura che cazzo vuoi che faccio no aspetta ma ci posso da qua no 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 tu ti voglio prendere questo ok ok no 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 tu non fai un cazzo allora no devo cercare di capire un attimo il funzionamento il come sta cazzo la posso portare di là perché una volta capito questo io a Michi chiederei anche la chiederei anche la Rai così vi ho fatto assaggiare un poco di Felix the Ripper ok ok l'ha mai ché allora vediamo se riesco a farlo no non posso non so ma è cazzo arrivarci lì e quello è il grande scoglio e vai lì io scusa ehm guardate che cazzo di movimenti sta facendo ho un milione di domande vabbè è diventato a Michi Minaj eia ma puttana eh va ma se io facessi così perché cazzo non me l'ha dato che cosa ho fatto di diverso no non evito ma io non ho fatto letteralmente niente ok 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 ringy ok ma posso fare così ma vai a fare in culo ok ok vai andata oh no thanks Sì Perché giustamente non si era fatto E' fallito E' tristissimo questo disegno Poi ci voglio una maglietta Lui che scrive a Betty Eh, Betty Ripetiamo da un po' Minchia vogliamo Esatto, c'era un altro prima di... Va bene Ce n'è uno abbastanza breve Poi ho finito il gioco Ok, possiamo parte